Se la regione Campania non esce dal piano di rientro per la sanità dovrà essere nominato un altro commissario. Al momento l'emendamento è passato al Senato e adesso al litere alla Camera, ma una volta che è approvato nessun commissario governatore potrà coesistere. Così il presidente della Commissione Sanità al Senato, Pierpaolo Sileri, commenta la situazione della sanità campana dopo il via libera del Senato alla norma anti De Luca, ora in corso di approvazione in Parlamento. Si va dunque verso un nuovo commissariamento, ipotesi non condivisa da Vincenzo De Luca che continua a ritenere le logiche del commissariamento non hanno più nessuna motivazione oggettiva per stare in piedi. A sostegno della sua tesi cita l'inalzamento dei livelli essenziali di assistenza e ribadisce di aver rimesso i conti in ordine e di aver posto le basi per la rinascita del settore, ragioni per cui il commissariamento non è più necessario. Il ministro della Salute Giulia Grillo però non è dello stesso parere quando afferma che la Campania deve fare ancora molto per uscire dal commissariamento anche se un salto in avanti c'è. A questo punto, una volta ripristinata l'incompatibilità tra la funzione di commissario e quella di governatore, arriverà un nuovo tecnico. Sarebbe l'undicesimo anno consecutivo di commissariamento per la sanità regionale. Proprio su questo è intervenuta la consulta che ha bocciato la gestione commissariale per la durata record associata al fallimento degli obiettivi. Questa corte non può esimersi, scrivono i giudici, dal rilevare l'anomalia di un commissariamento della sanità regionale protratto per oltre un decennio. Senza che l'obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di governo regionale. A causa del perdurante esautoramento del Consiglio e della stessa giunta a favore del commissario ad acta, soprattutto quando impersonato dal presidente della giunta in un ambito cruciale per il governo della regione.